Ciao a tutti, nel video di oggi, Leo, prima va a pranzo con mamma Chiara ed una loro amica, gustandosi una buonissima pizza, poi visitano lo studio della mamma, dove si divertono a giocare a nascondino. Vi lascio al video, buona visione! Verso l'infinito e oltre! Siete due teppistelli! Lo assi, dai, lo assi, dai, per favore, la tapparella? E perché? Cosa guardo? Cosa succede? Io devo guardare quello di io, voglio guardare quello di un amico in me. Di più? Di più di un amico in me. Un grande amico in me. Un grande amico in me. Ok, conto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Dov'è Leo? No? Pizza con la Elena e i birdies! Ciao amore. Buona? Buona? Niente. Buona, per fortuna. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti